bello a tutti ragazzi io sono super jets plus e questa qui è la serie il primo episodio dell'industria aircraft quindi adesso ci provo questa industria aircraft io la provo perché lo so che tanto lag anche questa qui fa laggare tantissimo ma io ci provo allora allora quello che faccio adesso prendo la legna di quest'albero ok allora con questo che faccio questi ormai sono abituato in inglese allora parlo in inglese tanto che sono abituato in inglese faccio i stick un bel ma la spada per adesso non serve faccio questo e il piccone il piccone mi serve la roba in legno non vale a un cavolo le robe in legno ah lì c'è il carbone ok le robe in legno non vale a niente raccolgo anche un po di pietra intanto trovate il carbone ok questo è buono per fare le torce aspetta scusate ragazzi devo fare un attimo ok sono tornato allora ok non ce n'è altro no questo qui di odite eh sì eh questo è già un imprevisto è già un imprevisto questo purtroppo qui c'è un problema eh eh questo caverna non c'è niente ecco un po di pietra con la cobblestone faccio la spada con tutto tutti gli attrezzi devo trovare del ferro non voglio fare un armatura di di pelle che non vada niente roba da noob già di ferro è buona non sono un noob che faccio queste cose allora ah non riesco a salire anzi non ne faccio niente di questa terra ecco qui allora prima che si faccia a notte ed è quanto siamo mesagione e mezzo luna prima che si faccia a notte devo fare anche una casetta mentre trovando la crafting table eccola qui e cos'è cosa ci fanno ah sì eh non è roba di slime sono le app che fanno queste cose eh sì e fa parte della moda le app beh ma tanto non fanno niente con le app non è nella realtà fanno ti pungono ma in qui non ti pungono non ti fanno niente ma posso fare anche la fornace allora eh sì la fornace mi serve un altro stick faccio questo questo ho già finito la pietra ok ma intanto devo pensare alla casetta vabbè intanto mi sono fatto l'asce ok di tronchi ma là poi là c'è una mucca vediamo ma non è che deve essere così grande facciamo così per adesso questo è solo è solo momentanea questa casetta poi la distribuco allora una casetta momentanea così eh però non ho abbastanza legna per farla mi ci vuole un po' di legna la faccio mista con pietra questa è l'entrata eh ho già finito ho già finito tutto allora allora vado a raccogliere un po' di pietra cosa me ne faccio di questi mettili qui porca non ci voleva questa eh sarà meglio che mi sbrigo perché eh sì ormai ci siamo non ho neanche le mura ma porca miseria questa altra scelta devo farla anche di terra no non dai pietra dove sei pietra oh ecco ecco dove è la pietra là c'è un albero della gomma anche là eh vabbè la vado a prendere dalla caverna che c'è una peccola ok questo è il tempo è una vieni qui vieni qui vieni qui eccola voglio la tua lana ok anche la mucca oh perro guarda un po' qui c'è un bel bestiame vieni vieni dove sei andata io t'ammazzo dove sei dove sei mucca oh no no è sera porca miseria vieni qui te e vieni qui e vieni qui e vieni qui tu non fai la furia oh due un'altra peccola dai un'altra soltanto un'altra peccola no non me lo concede ma porca e tu adesso sei mia vieni qui vieni qui ok ok dai torniamo indietro oh no è già buio così ma porca vieni oh no adesso cominciano qui oh un'altra peccola questa è la cosa non è buona per dormire vieni qui forza sì sì però il legno beh non ci vedo niente porca miseria non ci vedo aspetta un attimo allora eh è la fornaccia piazza la sì ho capito eh sì facciamo così guarda oh no oh no oh no ci sono già i ragni oh no allora no voglio luce allora allora mi faccio già una torcia almeno così non riesco ahia porca miseria no ah ti ammazzate brutta bastarda anche a te a fare il fulbe eh ah ah tre bistecche forza devo pulare ah mi tocca spaccare questo tronco questi tronchi perché non ho legna ah devo andare a dormire prima che questi mi mi fanno la la pelle eccolo qui il letto eccolo e dai piazzalo oh sì finalmente 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 ce l'ho fatta uff veramente dura veramente dura è stata veramente dura va bene ragazzi quindi ecco la ci sono due creeper forse è meglio evitarli quindi ragazzi commentate iscrivetevi lasciate un mi piace e ciao ragazzi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao